Monteverdi, vicepresidente di Asso Lombarda e presidente del presidio di Lodi di Asso Lombarda, imprenditore con un'azienda molto invocata all'export. Che anno è stato il 2017 che viene fotografato da Top 200 e quali sono i segnali invece per il 2018? È innegabile che il 2018 è stata un'ottima annata, non solo per il vino ma anche per tutte le aziende dell'Odigiano. Certamente l'export ha aiutato grandemente ma non dobbiamo nascondere la preoccupazione che abbiamo relativamente agli ultimi dati che sono usciti su una flessione generale sia in termini di lavoro che di fatturato non solo locale ma direi internazionale. Questo ci preoccupa e dobbiamo prestare la massima attenzione.